Grazie. Buonasera, pasticceria di rosa, che cosa avete portato di particolare? Qual è il vostro asso? Il lievito madre. Ah, l'asso nella manica è questo? Sì, il lievito madre. Voglio assaggiare? Certo che vogliamo assaggiare. Grazie, lo assaggiamo fra un attimo. Chi l'ha assaggiato che mi dice? Com'è questo panettone? Lo avete già assaggiato? Mi hanno lasciato da solo perché praticamente non c'è parcheggio qui. Quindi vabbè, non c'è l'altra parte. Arriveranno, arriveranno. Vuoi assaggiare questo con la cioccolata? Grazie. Oh, che fecca, grazie. Prego. Noi lo assaggiamo dopo. Grazie. L'ho assaggiata lì. Vai un commento dopo. Assaggiata, voglio sapere com'è questo panettone. Questo con la cioccolata e l'altro invece? Il classico. E chi è più soddisfatto dei due? Grazie. È salato questo? È salato? 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 Buono? Buono? Al fondo? Ma questo è un boom. È un boom veramente? Sì. Tipo Casaniello? No. Ma questo è il panettone? Ah, qual è il pan? Cos'è il pan di Altamurano? Perché noi siamo Altamurano? Perché anche le rubo queste? Siete di Altamura? Ma è una sorpresa questo panettone, com'è? E da dove viene questo panettone? Siete di Altamurano. Eh, ve l'ho detto, noi siamo Altamurano. 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 E Puglia? Puglia. Puglia. Scusate, fai vedere un po'. Perfetto. Buon primo. Signora, queste sono le sbulle. Eh? Alla sbulla. Sì, adesso la vediamo. Ah, pensavo che fosse questa qua. No, lo dobbiamo assaggiare questa. Non ci fanno canti più. Ecco, non lo lascio più. Tipo pan, pan d'oro. No, questo? No, penso che questo lo panno. Questo è il pane bucchese. E questo è il pane le cesame. Ah, amiccetto, no? No, no, no. Matera, Altamurano, Altamurano. Lo puoi fare più piccolino? Non è calaburrucano, è Pugliazza. Si può assaggiare. Perché no? Un attimo. Facciamo, ecco, sì. Tant'altro sarà buona. Sant'Agnillo, pasticceria di Nola. Completamente al cioccolato? No, questo è un, diciamo, al limone. Marmellata al limone, tipo una salve.